Scopri il tavolo da stiro Perfect Flow, progettato da Philips e Brabanzia per stirare più rapidamente senza acqua sul pavimento. La fodera multistrato è adatta anche ai ferri da stiro a vapore e ai generatori di vapore più potenti. Il resistente strato superiore è in cotone al 100% per una maggiore scorrevolezza. Sotto di esso vi è uno strato di schiuma di 2 mm per stirare comodamente. L'esclusiva tecnologia 3D Texil con l'imbottitura resiliente nello strato sottostante permette una distribuzione ottimale del vapore. Lo strato di feltro rivestito mantiene asciutta la fodera ed impedisce che l'acqua cada sul pavimento. Le fodere sono state create appositamente per i tavoli da stiro Brabanzia e hanno quindi misure perfette. La corda di fissaggio e lo stretch system permettono di fissare la fodera con facilità, in modo che risulti perfettamente tesa e liscia. La fodera Perfect Flow è disponibile in combinazione con diversi tavoli da stiro Brabanzia. La fodera Perfect Flow è inoltre disponibile separatamente come fodera di ricambio. Controlla il codice a colori del tuo tavolo da stiro per trovare la misura perfetta. La fodera per tavoli da stiro Perfect Flow è la scelta migliore per i ferri da stiro più potenti.